Ciao a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo video, siamo su Planet Sandu Remix, ogni tanto lo ricordo perché non cito mai il nome del canale Eccoci qui con i regali del mio compleanno, da poco ho compiuto 27 anni per chi se lo stesse chiedendo perché alcuni mi hanno detto che dalla voce sembro molto più piccolo Invece ho 27 anni, le ho compiuti giorno 14 febbraio, quindi non so quando caricherò questo video, io lo sto facendo in data odierna 15 febbraio Quindi un giorno dopo, quindi penso intorno al 19-20 di caricarlo Comunque ragazzi andiamo a vedere cosa mi hanno regalato, questo è il reparto intrattenimento perché poi ci sono i soliti regali, maglioni, magliette eccetera eccetera Questa maglietta qui l'ho messa per chi ha sfondo videoludico Allora mi hanno regalato, allora il Blu-ray 3D e Blu-ray normale di Demartian, sopravvissuto, il Blu-ray film uscito da poco in Blu-ray appunto Protagonista Matt Damon, film a tema spaziale diciamo, molto molto bello, il regista è Ridley Scott quindi un registrone E contiene due dischi oltre la versione, cioè la versione 3D, Blu-ray 3D e la versione appunto 2D E la sovracopertina cartonata Sono sempre cose ben accette le sovracopertine Poi abbiamo, mi alzo che viene meglio Poi abbiamo la maglietta della Playstation ufficiale Sono un sonaro, ma per te scherzi Della Playstation con tutti i joystick appunto stampati sulla maglietta e grigia Molto molto carina, la vendevano da GameStop Quindi credo che chi me l'ha regalata Me l'ha regalata, l'abbia acquistata da GameStop Questa me l'ha regalata il mio migliore amico Questa me l'ha regalata mia cognata E poi ci sono i regali della mia ragazza, diciamo Che ha contribuito in Life is Strange E Sherlock, le prime 3 stagioni in Blu-ray Sono 6 dischi 6 dischi in Blu-ray include tutte le puntate ovviamente in alta definizione In più ha un mini episodio E anche ovviamente contenuti speciali Molto molto carino E poi appunto dicevo Life is Strange La Limited Edition Non vedevo l'ora, è uscita da poco retail Quindi con i sottotitoli in italiano Vediamo il retro Vediamo se si vede, c'è abbastanza luce Questa Limited Edition comprende il diario e le soundtrack Molto molto carino il gioco L'ho iniziato da pochissimo ovviamente Niente ragazzi, questi sono i regali che ho ricevuto per il mio compleanno Il video finisce qui Se i regali vi siano piaciuti Acquistateli Magari vi metto, non lo so, i link in descrizione su Amazon Per acquistare tutti questi prodotti Non so se trovo questa Mi sembra difficile Ma magari metto il link di GameStop Provate ad acquistarla E questo video finisce qui E spero vi sia piaciuto Ho voluto condividere questi regali A tema intrattenimento con voi E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti